Il comportamento di Red è un po' eccessivo, non trovate? Azione! Stop! Ok, questa era... buonina. Proviamo di nuovo, magari urlando un po' meno e magari dicendo tutte le battute vere. Azione! Stop! Sai, così non funziona. Proviamo a mischiare un po' le carte. Pensavo di metterti su un divano a sorseggiare succo di insetto bello rilassato. Sì, così mi sembra molto più adatto. E poi scaraventarti a terra! No! Non lo farò! Non passerò il resto dell'estate freddo e bagnato! Non lavoro in queste condizioni! Teres, mettilo nella catapulta!